buon pomeriggio a tutti io sono valentina grasso del team del sistema museale di ateneo dell'università di pisa e oggi vi do il benvenuto al terzo incontro inserito all'interno del progetto per le competenze trasversali e per l'orientamento dal titolo il museo a scuola in collegamento con noi oggi abbiamo la professoressa alessandra coli direttrice del museo anatomico veterinario dell'università di pisa che saluto subito e ringrazio anticipatamente per averci dato oggi la sua disponibilità abbiamo in collegamento della classe quarta i del liceo scientifico a potenziamento internazionale dell'istituto superiore statale antonio pesenti di cascina e abbiamo anche in collegamento con noi tommaso piccini e damiano barzotti della classe quarta c del liceo scientifico statale ulissedini di pisa oggi la professoressa coli ci introdurrà la collezione del museo anatomico veterinario con un approfondimento dal titolo lo scheletro animale archivio di informazioni biologiche e comportamenti come sapete potete durante l'intervento utilizzare la chat pubblica di youtube per fare domande pertinenti e questa volta anche durante l'intervento non soltanto alla fine vi ricordo inoltre per i primi dieci minuti potete scrivere la vostra presenza indicando nome cognome classe e la scuola di appartenenza dunque per quanto riguarda invece la parte pratica ho sentito stamattina alcune vostre insegnanti e ho inviato una mail con le con alcune proposte tra cui la possibilità anche di effettuare un piccolo elaborato scritto seguendo una traccia che verrà indicata a fine incontro dal relatore dell'incontro in questo caso dalla professoressa alessandra colli a questo punto eh ringrazio tutti eh medieventi per tutto il lavoro di backstage il presidente del sistema museale di Ateneo eh Chiara Bodei la coordinatrice organizzativa del sistema museale di Ateneo la dottoressa Sabrina Bolestri e le mie colleghe Marianna Saliba e Ilaria Tucci dalla parola a questo punto Alessandra Grazie Valentina eh salve ragazzi buon pomeriggio vedete vi presento questo argomento eh la definizione l'approfondimento sullo scheletto animale facendo precedere la mia lezione da una breve diciamo introduzione su quello che è il museo anatomico veterinario allora attualmente questo museo è una raccolta di preparati anatomici localizzata all'interno del dipartimento di scienze veterinarie che è a sua volta localizzato sul viale delle piagge qui a Pisa il museo ha una sua datazione molto antica che come vedete cioè 1818 quando questo veterinario dell'armata napoleonica che è diciamo l'introduttore dell'anatomia veterinaria a Pisa Vincenzo Mazza apre una scuola nel quartiere di San Martino che voi conoscete quindi in via la tinta nel quartiere San Martino praticamente eh inizia a collezionare reperti di origine animale in funzione della conoscenza del corpo dell'animale in funzione della possibilità di curarne le malattie come vedete ho portato qui a fianco tre tipologie di reperti collezionati nel museo anatomico il primo e non a caso ho messo come primo è una testa di cavallo in visione laterale voi vedete che ci sono delle caratteristiche dell'animale in vita c'è il suo orecchio il suo occhio collocato all'interno della cavità orbitale ci sono vari organi conservati in varia tipologia che rendono visibile la forma dell'animale come può essere al di sotto del suo rivestimento cutaneo sotto invece avete un reperto simile di una testa di cane e sotto ancora un'altra tipologia di reperti conservati nel museo che sono i reperti di scheletri animali l'argomento che tratteremo precisamente oggi eh perché il cavallo vi ho detto perché ho preso l'immagine cavallo perché la medicina veterinaria come eh tecnica di eh terapia diagnostica e terapia delle malattie degli animali questo ne facciamo nei medici veterinari nasce come medicina del cavallo perché il cavallo è quell'animale che nella storia dell'uomo ha rappresentato una tappa fondamentale se ci pensate bene è il primo mezzo di trasporto dell'uomo è un animale con cui eh l'uomo ha affrontato un diverso metodo di affrontare la guerra se ci pensate perché una cosa è la fanteria è una cosa è l'efficienza purtroppo nelle guerre l'utilizzo della cavalleria se per non dimenticare anche il fatto che esiste un termine cavaliere che indica una personalità al tempo di alto lignaggio in alternativa alla parola plebeo quindi il cavallo ha importanza nella storia dell'uomo quindi l'uomo ritiene necessario che se un soggetto di origine equina si ammala forse è necessario curarlo per poterlo avere ancora con con sé e quindi dal 1818 il tra dopo la l'intuizione di vincenzo mazza a pisa si passa un'altra tappa fondamentale che è l'istituzione di una scuola di medicina veterinaria vedete regia perché siamo ancora nel 1800 1874 questa struttura all'inizio localizzata via san martino viene localizzata in uno spazio che conoscete se siete maggior parte di voi sicuramente di pisa conoscete i cosiddetti azionali medicei che è quello spazio sul lungarno dove adesso c'è localizzato il museo delle navi della repubblica pisana ecco quello spazio veniva chiamato deposito stalloni vuol dire che c'erano le stalle in cui erano contenuti i cavalli quando si ammalavano venivano ricoverati nel deposito stallone e purtroppo per loro quando un soggetto era deceduto il suo cadavere veniva elaborato in maniera tale da trarne dei reperti animali per poter conoscere approfondire la morfologia del corpo dell'animale questo gabinetto di anatomia poi diventa istituto di anatomia generale e descrittiva dei vertebrati domestici all'interno della scuola di medicina veterinaria e qui si cominciano veramente a raccogliere in senso museale i reperti che nascono con l'insegnamento nel 1815 di mazza e ricordate che questi reperti che voi vedete quindi hanno questa datazione storica quindi noi abbiamo una grande responsabilità nei confronti della comunità pisana di mantenere diciamo in giuste condizioni di conservazione questi reperti queste sono due immagini che se aveste potuto stare con me in museo vi avrei fatto vedere praticamente sono due immagini dello spazio del museo vedete densamente popolato di reperti che contenuti all'interno di vetrine e sono contenuti a seconda del tipo di organo e che per cui sono stati conservati ma parliamo ecco di questo scheletro animale e quindi prima di tutto io dopo è scontato che avete sicuramente delle nozioni di biologia però forse non biologia animale così come ve la propongo oggi io questo è un nostro reperto anatomico ed è uno scheletro di cane vedete in visione laterale di in cui ho sistemato delle definizioni che mi servono per proseguire poi nel laboratorio di oggi allora ogni scheletro animale ma ragazzi pensateci bene se noi ci mettiamo a quattro zampe abbiamo la stessa definizione di quello che vi ho indicato nello scheletro di questo animale perché noi primati come classe ma dei mammiferi come famiglia siamo al massimo della scala evolutiva di questi animali che ci precedono nella scala evolutiva ma sono siamo siamo tutti fatti nella stesso modo come mammiferi parlando di animali domestici io do queste definizioni che mi servono poi per approfondire alcuni settori di questo scheletro per indicarvi come a seconda del variare di questi settori o il variare delle specie animali che noi conosciamo dal punto di vista comportamentale ogni scheletro quindi di mammifero si divide in uno scheletro appendicolare le appendici sono gli arti e infatti avrò un arto anteriore vedete un arto posteriore che corrispondono al nostro arto superiore e il nostro arto inferiore ok prima definizione l'arto anteriore serve ai nostri animali domestici per l'appoggio l'arto posteriore l'arto della deambulazione e se ci pensate bene il posteriore sostituisce è sostituito in noi nell'inferiore noi ci muoviamo attraverso il movimento del nostro arto inferiore il resto dello scheletro si chiama assile perché corrisponde a un asse mediano cioè in mezzo al corpo che è la colonna vertebrale vedete una sequenza di ossa sono sostenute da un filo di ferro vedete che è lo scheletro che i preparatori hanno attuato per mantenere in in rapporto reciproco queste ossa di questo soggetto a cui è attaccato in posizione anteriore lo scheletro del cranio ecco noi puntualizzeremo notevolmente le nostre differenze per gli animali per quanto riguarda la morfologia del cranio e la morfologia degli arti perché per quanto riguarda il resto dello scheletro un po tutti gli animali si somigliano quindi non sono determinanti nel far variare le caratteristiche comportamentali la prima definizione che vi devo dare è quella del termine domestico allora queste immagini che voi vedete a fianco sono i nostri repetti anatomici collezionati e precisamente sono il guardate cavallo bovino ovino o caprino suino il cane il gatto e il coniglio io vi parlerò di questi animali che si chiamano animali domestici allora in realtà il termine giusto biologico dovrebbe essere animale addomesticato perché perché a livello diciamo naturale sono animali selvatici che l'uomo ha addomesticato in periodi diversi fondamentalmente per trarne dei vantaggi di tipo economico cioè alimentazione lavoro aiuto nella caccia pensato all'uomo primitivo è non all'uomo attuale e nello spostamento da luoghi diversi quindi ha individuato in ciascuna di questa specie di mammiferi una caratteristica per cui trarne dei vantaggi economici attenzione perché in alcuni di questi questa definizione varia un attimo e sto parlando fondamentalmente del cane e del gatto cioè la domesticazione in questo caso ha riguardato degli animali che noi attualmente chiamiamo animali da compagnia lo sapete vivono nelle nostre case sono domestici ma sono di dimensioni tali da poter vivere a contatto con noi cioè nella nostra casa io non posso tenere un cavallo lo tengo in un suo alloggiamento specifico però posso tenere il cane il gatto quindi lì approfondiremo come specie domesticata in relazione al fatto che l'uomo ha deciso di convivere con questi animali per il solo fatto che gli fa piacere vivere con questi animali senza trarne un beneficio di natura economica e ricordate che il coniglio di cui vi presento lo scheletro poi lo approfondiremo il coniglio può appartenere entrambe le categorie perché il coniglio è nato come animale da reddito nel senso che è un animale oggetto di alimentazione ma negli ultimi tempi noi veterinari abbiamo imparato a curare il coniglio come animale da compagnia perché alcuni di noi tengono il coniglio in casa come si tiene il cane il gatto quindi il coniglio può appartenere a entrambe le definizioni cominciamo a parlare del cavallo è allora breve storia del cavallo ecco questa storia del cavallo vedete che è molto importante perché voi conoscete il cavallo per quello che è attualmente c'è questo schema in basso vedete il cavallo attuale è un animale molto slanciato alto con delle caratteristiche tipiche della corsa un animale sportivo pensato al puro sangue inglese che diciamo il protagonista delle corse dell'ippica ecco in realtà il cavallo che noi attualmente conosciamo non è il cavallo come è nato ecco il cavallo domestico cioè il cavallo di oggi deriva da un suo progenitore selvatico attenzione la progenie 65 milioni di anni fa in questo periodo sulla terra l'uomo non era ancora presente e ci sono tracce di questa sua presenza nella superficie terrestre questo animale si chiamava l'uomo gli ha dato il nome di eoippus e questo è il disegno che si ritiene sia la traccia della forma del cavallo eoippus vorrei che poi puntualizzaste l'immagine su questa porzione che è la parte si dice di appoggio degli arti e su questo tipo di dimensione guardate un po allora leoippus era diciamo già 36 mila anni fa quando l'uomo lo ha conosciuto però ritenete mettete in mente che nasce da 65 milioni anni fa questo processo che ci ha messo del tempo nella trasformazione era un animale onnivoro che cosa vuol dire animale onnivoro vuol dire un animale che in grado di alimentarsi sia con proteina animale che con vegetali che con carboidrati noi come homo sapiens e questa è la nostra edizione scientifica siamo animali onnivori cioè siamo in grado di digerire queste tre tipologie di alimenta col cavallo era onnivoro era alto 28 centimetri come si misura l'altezza degli animali a questo livello guardate l'altezza relativa all'arco anteriore quindi questa altezza era 28 centimetri vorrei farvi presente che 28 centimetri all'altezza di un cane di grossa taglia va bene ma poi ecco come vi dicevo guardate questo schema che riguarda le dita della mano e la dita del piede ecco era un animale che aveva cinque dita qui si vede male sono quattro dita ma aveva già anche cinque dita per la mano e per il piede ecco il cavallo attuale non so quali conoscenze abbiate più o meno approfondite di questa specie innanzitutto è un cavallo molto alto un metro e settanta a questo livello guardate soprattutto il puro sangue inglese è un animale come penso sappiate erbivoro quindi un animale che digerisce la cellulosa che è lo zucchero che caratterizza chimicamente il materiale vegetale ma soprattutto guardate lo schema della parte di appoggio di queste dita sul terreno è portatore di un unico dito per arto e corrisponde al nostro dito medio quindi il dito centrale che cosa è successo in questo processo ecco si ritiene che guardate questo invece il profilo scheletrico del cavallo attuale l'ipotesi più accreditata è che questa trasformazione morfologica ma attenzione anche alimentare ciò vi ho parlato di un animale che prima era in grado di digerire anche la carne perché era onnivoro sia stata una trasformazione indotta da variazioni climatiche della terra voi sapete che la terra ha subito delle variazioni durante i milioni di anni della sua nascita come pianeta che ha determinato delle variazioni dell'ambiente in cui vivevano gli animali allora guardato ho messo tre motivazioni che si ritiene siano quelle determinanti nella trasformazione prima di tutto i terreni per molti milioni di anni si sono passati da essere secchi a paludosi questo passaggio ha indotto a selezionare quei soggetti equini diciamo noi oggi geneticamente caratterizzati da perdita spontanea delle dita e precisamente la perdita spontanea che è un'aberrazione perdere le dita primo e il secondo e poi forse anche il terzo e il quarto ha selezionato dei soggetti che pur portatori di un'aberrazione perché da cinque dita erano nati con un dito solo che è quello mediano però meglio si adattavano al camminare in terreni paludosi pensate come sia difficile per un animale pentadattilo a vivere costantemente nell'acqua questo comporta una macerazione della cute fra le dita e porta alla morte di quei soggetti che non sono in grado di sopravvivere in un ambiente paludosso ma se casualmente questa è la grande intuizione di darwin la selezione naturale è nata da degli errori biologici casuali se l'errore biologico ha una importanza nella sopravvivenza della specie che è interessata la specie se la porta avanti questo errore se l'errore determina la morte dei soggetti la specie si estingue in questo caso la perdita delle dita che è un'aberrazione determinato la sopravvivenza di alcuni soggetti che meglio con un dito si adattavano a terreni paludosi altra motivazione della trasformazione probabilmente la scomparsa di una microfauna cosa intendo con questo termine piccoli topolini che potevano essere la alimentazione animale di questi soggetti ha selezionato ecco quei soggetti che meglio si sono adattati di altri alla sola vita vegetariana quindi l'animale è diventato progressivamente vegetariano non oltre possiamo individuare in una alzarsi della mole corporea da ventotto centimetri a un metro e settanta in quale motivazione la troviamo quando la vegetazione più bassa proprio in relazione ai terreni paludosi si è resa meno disponibile rispetto agli all'altra vegetazione ad esempio arbusti di alta dimensione o alberi si sono selezionati quei soggetti che geneticamente erano più alti della media della specie di Eoippus che sono stati capaci quindi di alimentarsi di arbusti alti rispetto all'erba che non era più presente a quel momento selezionandosi in questo modo e riproducendosi fra soggetti di alta diciamo altezza algarrese algarrese vuol dire l'altezza dell'arto anteriore probabilmente piano piano il cavallo è diventato l'animale che noi conosciamo cioè alto con un dito vegetariano e guardiamolo questo scheletro per individuare nella sua forma le caratteristiche comportamentali allora cominciamo a valutare il suo cranio come vi ho detto prima il cranio è fondamentale perché gli animali molto spesso voi le identificate proprio guardandogli la faccia se ci pensate bene caratteristica del cavallo è la lunghezza di questo cranio allora che cosa intendo come lunghezza vedete questa parte qua di questo cranio questo è il naso fate conto che qui ci sono le narisci questa è la bocca con i denti questo è l'occhio questa è la parte posteriore del cranio questa è la mandibola con ancora denti alleggiati ecco la parte anteriore del cranio in biologia si chiama splanchnocranio o faccia chiamiamola faccia oggi non meglio è nel caso dei cavalli molto più grande di questa parte posteriore che si chiama neurocranio lo capite il termine neurocranio cosa vuol dire quella parte del cranio dove è contenuto dentro l'encefalo o cervello di questa è la caratteristica del cavallo una faccia molto lunga poi altra caratteristica del cavallo la cavità dell'occhio vedete questo foro dell'osso e la cavità orbitaria dove posta lateralmente infatti voi vedete ne vedete una sola in questo reperto anatomico l'altra è dalla parte opposta va bene questa è la cavità orbitaria di sinistra questa cavità orbitaria estremamente laterale è tipica di un animale erbivoro e infatti se ci pensate bene un animale erbivoro è un animale che per mangiare può semplicemente abbassare la testa e cibarsi della vegetazione io dico in condizioni di naturalità dell'animale ma se è un animale erbivore può trovare sempre da mangiare può però mentre che mangia essere oggetto di preda di un animale invece predatore che sarà al contrario un animale carnivore ecco la natura ha dato a questi animali la possibilità di avere una visione spaziale enorme un ampio campo visivo talmente ampio che quando andremo a vedere il coniglio posso già qui dirvi che quello che vede l'occhio sinistro del coniglio non è quello che vede l'occhio destro cioè talmente vede in senso laterale che può costantemente controllare cosa succede dietro di sé in maniera tale da poter scappare all'arrivo del predatore ecco già memorizzate questa caratteristica l'occhio dell'erbivoro è laterale rispetto all'occhio di un carnivoro che noi troveremo invece frontale ecco noi ad esempio originiamo ecco da una visione di occhio frontale che siamo siamo dei soggetti derivanti dai primati che siamo in grado ecco anche di poter uccidere per potersi cibare sempre in condizioni di naturalità un'altra caratteristica del cranio del cavallo guardate un po' ed è una cosa che forse voi non sapete se voi controllate la vostra arcata dentale superiore inferiore noi la occupiamo con i denti in tutta la loro estensione ecco nel cavallo invece questo spazio senza denti si chiama diastema ed è fisiologicamente senza denti non è un'alterazione non ci sono alveoli dentali questo è uno spazio che ad esempio l'uomo con la sua intuizione con la sua capacità di osservazione ha intuito come molto importante perché nella sua domesticazione c'è per rendere docile un soggetto quando fa la doma la doma del cavallo la sua resa docile mette in questo spazio dei finimenti si chiamano volgarmente le briglie ecco mette le briglie a questo livello perché sa benissimo che la briglia non determina nessun tipo di impaccio alla masticazione visto che in questo spazio non sono presenti i denti quindi vedete l'uomo come interviene conoscendo l'animale in questo senso guardate questa immagine invece frontale è la quella superiore è la proprio la l'organizzazione fra i denti incisivi superiori e inferiori ecco qua e questa invece la visione degli unici denti inferiori cioè quelli della mandibola in visione frontale allora i denti del cavallo attuale sono i denti di un animale vegetariano quindi sono i denti adatti a triturare la vegetazione che voi sapete essere più o meno fresca però ricca di fibra la fibra è una è una materiale della dell'erba che ha necessità di essere ben triturato pensate il cavallo è in grado di digerire dopo aver triturato la paglia quindi deve essere in grado di triturare bene quindi sono denti molto molto trituranti alcuni soggetti però e ora vi faccio vedere quindi guardate l'immagine sotto alcuni soggetti però mantengono delle aberrazioni francamente vedete questo dente appuntito di qui e di là dal piano di questi denti che sono di incisivi è che sono questi che voi vedete qua vedete un dente appuntito di qua di là ecco questo dente nel cavallo si chiama scaglione in realtà è un dente canino allora voi vi chiedete scusate ma perché il dente canino se è un vegetariano che cosa ci fa col canino che penso voi vi rendiate conto dente appuntito canino sarà quel dente che lo ritroveremo bene nel cane ad esempio è un dente che serve per incidere la carne pensate a un animale selvatico carnivoro che serve anche per uccidere la preda e poi incidere la sua massa muscolare per l'alimentazione il cavallo non ne ha necessità ma siccome io vi ho detto che questo animale non era prima un erbivoro classico ma era un onnivoro probabilmente in alcuni soggetti la presenza di questo dente noi veterinari la consideriamo una aberrazione attualmente perché un dente che non ha nessun significato ecco però sono presenti ancora soggetti che manifestano dentro di sé la storia della propria evoluzione cioè un canino quando l'animale era onnivoro utilizzava e serviva la triturazione della cavallo attualmente il cavallo non sa cosa farci con questo dente sinceramente sono delle delle alterazioni spesso vengono anche proprio tolti dalla dalla mandibola del cavallo perché possono danneggiare ad esempio l'occlusione perché non hanno nessun significato la superficie masticatoria vorrei farvela vedere guardate questo questo cerchietto che vi ho messo vedete che la superficie masticatoria cioè quella che va in occlusione con l'altra parte è un'area allora se voi vi toccate i vostri denti incisivi voi sentite una superficie tagliente ecco nel cavallo non è tagliente ma è un'area quindi è in due superfici ha una larghezza e una lunghezza questo è molto importante perché è il tramite per poter triturare bene il cavallo è un animale che mastica molto bene con i denti incisivi se siete vicini a un cavallo e sentite che vi danno da mangiare sentite un rumore molto forte che è l'occlusione dei due incisivi tanto da rendere poltiglioso l'alimento già dagli incisivi come mangia il cavallo ecco il cavallo però mangia con le labbra cosa intendo con questo termine ha delle labbra estremamente mobili quindi affronta l'erba o la paglia stringendo le labbra sull'alimento poi appena le astrinte porta subito l'alimento strappato sotto i denti incisivi che iniziano a masticare poi la lingua prende questo materiale reso poltiglioso dalla saliva che viene prodotta nella cavità buccale lo porta poi all'altri denti che sono ora vi faccio vedere i premolari e molari che sono quelli posteriori dopo aver superato quello spazio senza denti ricordate che esiste nel cavallo e questi sono guardate l'immagine questo è il palato di un cavallo in visione dentro la cavità della bocca e questa è una visione laterale dei premolari e molari guardate che differenza con i nostri denti si tratta di forme poligonali guardate con cuspidi cioè le punte dei denti molto basse adatte proprio a triturare a macinare la paglia quindi è un adattamento importante alla variazione alimentare ok il bovino l'altro animale domestico è che noi consideriamo importante dal punto di vista dei benefici che si possono trarre fondamentalmente dal bovino attualmente si trae il beneficio dell'alimentazione della carne e del latte mentre nel cavallo il cavallo è ancora un animale da carne si dice però è un animale anche sportivo come vi ho detto un cavallo è un animale che sa correre quindi l'uomo lo utilizza dal punto di vista sportivo ad esempio nella pratica dell'ippica ecco anche il bovino ha subito una trasformazione cioè il bovino che noi conosciamo ho preso una fotografia di un bovino classico che conosciamo noi oggi che può essere in un allevamento allo stato brado in un allevamento che lo chiamo domestico non è nato così ma è nato da questa immagine questa è un'immagine un disegno del progenitore selvatico del bovino domestico questo progenitore si è trasformato e ha cominciato a trasformarsi nell'animale che noi conosciamo circa diecimila anni fa e si chiamava uro o alla latina boss taurus bovino toro la traduzione latina primigenius cioè il primitivo bovino che in india era diciamo già due milioni di anni fa l'uomo lo conosceva e lo utilizzava ok in europa è arrivato 250 mila anni fa come uro ed è l'antenato di tutti i bovini moderni che noi teniamo nei nostri allevamenti sia che siano bovini a tendenza alimentare per il latte quindi produttori di latte sia che siano bovini ad alimento a tendenza alimentare per la carne ed è sopravvissuto quindi l'uomo ha avuto la possibilità di conoscerlo l'uro fino al 1600 poi l'uomo lo ha totalmente estinto quindi non c'è stata la diciamo l'intelligenza che noi oggi invece teniamo a mantenere nel detenere la genealogia di animali che sono stati importanti nel determinare le specie che noi attualmente conosciamo a differenza del bovino moderno notate qualche differenza non come nel caso del cavallo è notate benissimo che il corpo è sempre quello di un animale molto tozzo con arti corti vedete ora poi faccio vedere il resto anche dello scheletro ecco la cosa più un pochino più irratante di questo passaggio d'immagine le corna vedete che l'animale selvatico aveva delle corna molto pronunciate in lunghezza mentre il bovino domestico tende ad essere un animale portatore di corna molto più corte e poi non solo il luro aveva un grande dimorfismo sessuale vi spiego il termine termine scientifico dimorfismo vuol dire avere due forme in relazione al sesso maschile o femminile questo vuol dire che attualmente non esiste più questo dimorfismo cioè il maschio e la femmina sono tendenzialmente uguali come forma dimensione caratteristiche anatomiche mentre l'uro era un maschio di oltre 1500 kg la femmina non arrivava a 1000 kg era alto attenzione ragazzi un metro e 80 180 centimetri sempre a questo livello misuro gli animali quindi più alto del puro sangue inglese attuale in mentre gli animali bovidi attuali sono intorno a poco più un metro di altezza a questo livello le femmine avevano un peso inferiore ed erano un pochino più basse ma è anche il mantello l'uro aveva un mantello copioso e del resto se ci pensate bene era un animale selvatico quindi doveva convivere con le variazioni ambientali e quindi aveva un mantello adatto anche all'inverno a coprirsi a rendersi quindi più rendere più tollerabile la bassa temperatura mentre i nostri animali domestici attualmente noi li contingentiamo all'interno di spazi ristretti quindi la selezione non ha fatto altro che ridurre anche la lunghezza del pelo non è più necessario avere un grosso mantello una grossa pelliccia in quanto io tengo l'animale in condizioni di cattività all'interno di spazi chiusi quindi con variazioni di temperature estremamente inferiori ecco come anche il colore l'uro era scuro i bovini possono avere variabilità estrema di mantello questo è un mantello rosso poi esistono mantelli bianchi e neri esistono mantelli bianchi e rossi mantelli grigio chiaro quindi nella selezione delle varie razze di bovino io sicuramente ho perso il colore scuro che ricordatelo fin d'ora il colore scuro e il mantello spesso sono sintomo di animale selvatico perché il colore scuro si mimetizza in un ambiente boscoso quindi è più coerente per quanto riguarda un animale che vive allo stato libero esclusivamente quindi il selvatico allo stato libero guardiamo il cranio allora che cosa notate nel cranio di uguaglianza con l'altro animale vegetariano o erbivoro che è il cavallo ci sono i denti che vi farò vedere hanno varie somiglianze c'è il diastema che è ancora presente c'è lo spazio senza denti però vedete la mandibola guardate nel cavallo era a bordo rettilineo guardate il bovino invece com'è curvilineo primo aspetto di differenza anche qui ho la faccia molto più lunga della parte che contiene l'encefalo e poi chiaramente ho la grande differenza rispetto al cavallo ho il supporto osseo del corno quindi scopriamo che il corno equivale un po al materiale di cui sono fatte le nostre unghie così mi capite che rivestono questo materiale corno riveste un corno di sinistra un corno di destra la cui base invece osso quindi è un astuccio corneo su un osso sottostante anche la cavità orbitaria è uguale a quella del cavallo se vedete molto lateralizzata animale per livoro è guardate il suo schema quindi corpo se ricordate il cavallo di prima molto più tozzo con arti un pochino più corti rispetto al cavallo e guardiamo i denti qui c'è un'enorme differenza in una categoria di denti e vi ho portato l'immagine del solito palato che vi ho fatto vedere prima vedrei se guardate il palato a questo punto di vista quindi questa è la parte del palato quindi è la parte della mascella vista da dentro la bocca come se io fossi dentro la bocca e vedessi il palato di questi animali questi denti sono abbastanza simili a quelli visti precedentemente ma guardate un po che cosa succede qua l'arcata superiore del bovino si chiama mascellario superiore e questa cosa la ripeterò quando farò gli ovini e caprini allora bovini ovini e caprini sono riuniti da un termine ruminanti possa vuol dire ruminante un animale che rumina cioè un animale che ha un particolare tipo di digestione della cellulosa povere padre quindi i denti superiori dei bovini incisivi non ci sono sono assenti guardate un po io cosa vedo vedo un osso piatto una lamina una lamina di qui una lamina di là che non porta alveoli ma dove sono gli incisivi eccoli qua invece questa è la parte invece inferiore quella che è presente a questo livello vedete queste opporotte sono a questo punto quindi questa è la parte superiore senza denti e questa è la parte inferiore con i denti per gli incisivi si tratta di otto denti quattro per lato va bene nel cavallo erano tre per lato ok quindi ci sono due denti in più lateralizzati ma ecco a notevole differenza col cavallo è che la superficie di questi denti è come la nostra è tagliente quindi toccando la rima si dice c'è il bordo di questi denti io sento una linea nel cavallo avevo delle aree ovalari quindi vuol dire che questi animali affrontano l'alimento in maniera diversa infatti come mangia un bovino e poi sarà come mangia la pecore come mangia la capra in questo senso sono simili il bovino utilizza questo osso piatto che va in occlusione cos'è l'occlusione la chiusura della bocca va in occlusione con otto denti taglienti inferiori dovete considerare questi due elementi come i due lati di una forbice come sono i due lati di una forbice sono taglienti quando la forbice la usate per tagliare quando da divaricati i due elementi li chiudete ecco l'animale quando trova la vegetazione chiude i due elementi di una forbice gli elementi taglienti sottostanti sbattono su un piano rettilineo soprastante e quindi l'alimento viene tagliato le labbra del bovino sono immobili attenzione immobili cioè fisse al contrario di quelle di cavallo che sono mobilissime quindi un affrontare l'alimento in maniera diversa poi la stessa cosa viene dopo tagliato viene portato indietro con la lingua verso i premolari e i molari e questi operano la masticazione attenzione quindi nel bovino io non ho la masticazione degli incisivi ho la prensione con gli incisivi e la masticazione poi eccoli eccoli qua con gli stessi denti a forma di quelli del cavallo cioè poligonali con cuspidi basse avete notato la differenza quindi ma la differenza ora avete capito perché che c'è perché un animale si è adattato a fare il vegetariano loro sono nati animali vegetariani o erbivori questi invece sono gli ovini e i caprini è radunati come vi ho detto con i bovini con il termine ruminanti va bene allora per ora stiamo parlando di animali tutti erbivori avete visto allora gli ovini e i caprini anche loro sono stati domesticati 7 8 mila anni fa ci stiamo spostando un pochino è quali sono i progenitori di quelli che noi conosciamo attualmente come le pecore e le capre ovini o caprini pecore o capre allora i progenitori della pecora sono larga lì o ovis amon dove nell'asia centrale nel tibet e poi l'urial che si chiama ovis vignei che ancora guardate sempre l'oriente guardate iran settentrionale tibet e invece da noi e lo abbiamo ancora pensateci bene precisamente lo abbiamo in sicilia in sardegna ve lo dico subito il muflone infatti vi ho portato l'immagine del muflone il muflone si chiama in latino ovis musimon tuttora vive quindi ho la fortuna a differenza degli animali appena descritti di poter conoscere il progenitore selvatico della pecora il muflone guardate com'è fatto vedete il colore torna il ragionamento dell'uro mantello scuro mimetizzabile nell'ambiente boscoso ma che caratteristiche importante ha guardate che corna che ha il muflone è in asia sud occidentale e alcune isole mediterranee tra cui le nostre questa domesticazione della pecora è iniziata circa 9 mila anni fa e vedete come siamo più recenti mentre la capra la capra domestica è origina da questa specie che si chiama egagro o capra egagrusso bezzo arlo trovate in alcuni testi che è tuttora diffusa in asia guardate ancora l'oriente dei nostri continenti sud occidentale e la capra falconeri vi ho portato l'immagine dell'egagro guardate anch'esso mantello simile a quello del muflone questa è una è una progenitrice della capra corna ancora più lunghe guardate come sono enormi a corna lunga è il meccanismo per questi animali per potersi difendere offendere difendere nello stesso tempo quali sono le caratteristiche morfologiche quindi attualmente questi reperti sono tutti i reperti conservati nel museo allora questo è un reperto praticamente che conosciamo già perché della capra e della pecora vedete vi faccio vedere l'assenza di denti incisivi superiori guardate un po a differenza dei bovino si tratta due formazioni allungate è di natura triangolare però non ci sono è questo è il diastema e quindi ci sono denti quindi stesse caratteristiche morfologiche dei denti dei bovini importante guardate la differenza tra uno scheletro di pecora eccolo qua è uno scheletro di capra ecco è più facile che voi abbiate il supporto osseo delle corna nel soggetto caprino le varie razze di capra attuali che non nel soggetto ovino ecco soggetto vino vedete a corne questo soggetto ea corne qual è l'altra caratteristica che convive con i bovini guardate l'occhio laterale sia nella pecora che nella capra questo è lo scheletro di una pecora vedete col suo profilo e il disegno di uno scheletro di una pecora e la condivisione con i bovini è totale salvo che cosa e questa è una cosa implica la mole corporea ecco il bovino è estremamente più più grosso dell'ovino e del caprino perché derivano a sua volta da dei progenitori che hanno dimensione più piccola di quella dell'uro è passiamo a un altro animale domestico che convive nei nostri ambienti che invece il suino ecco abbiamo terminato gli animali erbivori con gli ovi caprini il suino domestico è un animale onnivoro da chi deriva il suino ecco il suino lo abbiamo proprio permettetemi il termine inventato noi cioè creato non è stata un processo di trasformazione derivante da una variazione ambientale che può essere stata sia nell'uro che nel legagro o bezoar oppure nel muflone ecco il suino lo abbiamo creato domesticando il cinghiale quindi l'animale che esiste nato in natura è il cinghiale che fortunatamente noi conosciamo ancora perché nei nostri territori boscosi convivono grandi numeri di cinghiali e dal cinghiale noi abbiamo domesticato il cinghiale e creato una nuova razza di animali che sono i suini e guardate la differenza sostanziale un po' però mi seguite già perché questo processo innanzitutto è stato già è cominciato guardate intorno a 2.3 milioni di anni fa e la domesticazione è circa il settimo millennio avanti Cristo quindi intorno a 10 mila anni fa fate conto abbiamo creato questo soggetto qua sotto qual è stato l'effetto della domesticazione innanzitutto l'uomo ha domesticato il cinghiale fondamentalmente dal punto di vista del beneficio per la sua alimentazione della carne come nel bovino abbiamo visto che poteva essere la carne il latte il trarre il vantaggio per l'uomo nel caso dell'ovi caprino lo stesso la carne il latte con i derivati che l'uomo ha inventato che si chiamano formaggi ok nel caso del suino l'uomo ha identificato nel suo progenitore una carne ad alto livello energetico permettetevi questo termine la carne del cinghiale soprattutto per l'uomo primitivo durante l'inverno rappresentava un alimento ad altro tenore energetico a una ricca componente di grassi che garantiscono quindi un nutrimento più forte più penetrante e quindi diciamo ha avvicinato a sé questi soggetti e piano piano li ha domesticati allora qual è stato l'effetto della domesticazione quindi perché noi abbiamo il cinghiale che è un'immagine e il suo in un altro uno dei primi effetti è stata la depigmentazione cutanea voi vedete che il cinghiale ha il classico aspetto di un animale selvatico cioè quello lungo si chiamano setole il mantello del cinghiale il colore marrone tipica condizione come vi ripeto ancora di un animale selvatico quindi un mantello ricco durante l'inverno mi garantisce di sopravvivere alle basse temperature ma soprattutto ecco mi garantisce di nascondermi da altri possibili predatori perché mi coloro con le caratteristiche del sottobosco ma io se sono tenuto in una porcilaia cos'è la porcilaia è quella casina dove l'uomo ha contingentato questi soggetti per poterli allevare poi sacrificare per la propria alimentazione progressivamente io non ho avuto più bisogno di avere né le setole molto lunghe né di avere il mantello il mantello di colore bruno quindi la domesticazione entrata nelle sequenze genetiche che codificano la lunghezza del pelo e il colore della pelle e quindi depigmentazione anche se penso che dalla vostra cultura di base voi conoscete una razza che si chiama cinta senese che ha una carne di ottima qualità rispetto alla classico suino che manifesta ancora la traccia si chiama cinta senese perché ha una barra nella zona mediana del corpo di colore dell'animale selvatico quindi è una zona un momento di passaggio di domesticazione fra la totale depigmentazione come di questo suino che ha il nostro stesso colore è rosa quindi la sua pelle non ha melanina la melanina il pigmento della cute no abbondante nel cindiale assente praticamente nel suino come anche il pelo il mantello non esiste più è un animale si dice glabro cosa vuol dire che non ha peli se non delle rare setole qua e là ok attenzione un'altra cosa molto importante che l'uomo ha effettuato domesticando il cinghiale è stata la riduzione di un suo dente particolare che la faccio vedere la prossima diapositiva che è nuovamente un dente necessario a un animale onnivoro come il cinghiale a uccidere la propria preda quando decide di scivarsi di proteine animali questo dente è anche nel cinghiale il canino ma non si chiama canino nel cinghiale si chiama zanna come quella dell'elefante cioè un canino talmente sviluppato che fuoriesce lo vedo fuori dalla occlusione dei denti e nei soggetti maschi c'è un leggero dimorfismo sessuale ora mi capite cosa vuol dire ve l'ho spiegato prima il maschio è portatore di una zanna maschio il cinghiale è portatore di una zanna più lunga della zanna della femmina quindi è un soggetto che ha capacità diciamo di gestire la sua la sua virulenza la sua capacità aggressiva nettamente superiore a quella della femmina quindi ho una riduzione fino quasi alla scomparsa di questa zanna come anche la riduzione a mole corporea ora voi non vi rendete conto in questo caso perché sono immagini non corrette dal punto di vista diciamo della dimensione però un cinghiale maschio di grandi dimensioni nettamente superiore a un suino maschio mantenendo però attenzioni ecco che la domesticazione non ha modificato l'attitudine alimentare cioè l'animale è ancora rimasto il suino onnivoro come il cinghiale cioè in grado di digerire ve lo ripeto proteine animale carboidrati e la cellulosa che è il vegetale lo zucchero complesso delle della della parte verde della vegetazione guardiamo le sue caratteristiche anatomiche allora guardate ho il museo una ricca collezione di cinghiale di schereto di cinghiale vi ho portato un'immagine del suo cranio in visione laterale questo è il cranio del maiale notate che c'è qualcosa di differenza la prima differenza sono in queste due frecce che vi ho messo guardate quanto è lungo parte da qua e arriva fino alla parte del naso la faccia del cinghiale e vedete come tende a ridursi nel maiale quindi il maiale ha una faccia un pochino più corta della faccia del cinghiale va bene poi lo sguardo allora è il primo animale francamente onnivoro che stiamo studiando a parte leo ippus che si è però trasformato per cui ormai è un erbivoro guardate la cavità orbitale eccola qua del cinghiale ed è questa è quella del maiale allora questa cavità rispetto a quella della parte controlaterale è più frontale rispetto a quella di un erbivoro che cosa vuol dire lo capite bene essendo un onnivoro e questo si capisce bene nel cinghiale più che nel maiale questo è un animale che è in grado quindi di puntare lo sguardo anteriormente per cercarsi la sua preda che può essere un topo un coniglio di macchia una lepre fate conto i cinghiali di san rossore ecco quando hanno fame di proteine animale prevedono l'uccisione della propria preda quindi avere lo sguardo più anteriore vuol dire giustificare la propria attitudine comportamentale carnivora parte carnivora della propria attitudine onnivora e poi un'altra cosa che noterete subito guardate un po l'estensione dei denti trovate il diastema come negli erbivori no sia nel cinghiale che nel maiale quindi l'animale onnivoro e fate conto la nostra bocca gli animali onnivori non prevede il diastema diastema è solo tipico degli erbivori quindi denti che occupano tutte e due le arcate dentali adesso guardiamoli questi denti già però avete notato guardate questo questo elemento qua che qui io non trovo più ve lo faccio vedere in questa immagine però frontale guardate questi sono i denti superiori inferiori del cinghiale e questi sono i denti superiori e inferiori del maiale ecco notate subito questa cosa qua che è scomparsa e questo qui è corrisponde a questo dente qua e a questo dente qua vedete quindi come animale onnivoro presenta un dente per l'uccisione e quindi è il canino che come vi ho detto in questi animali si chiama zanna questa zanna questa definizione però è estremamente ridotta nel maiale i denti incisivi guardiamo un attimo vedete che forma strana che hanno rispetto a quelli che abbiamo visto ecco sono sei in totale tre per lato guardate nel maiale uno due e tre uno due e tre un pochino distanziati uno due e tre una forma molto strana vedete si tratta di denti conici tendenzialmente diciamo rivolti verso l'avanti eh guardate questa caratteristica nel maiale si vede un pochino meglio questi denti hanno una riduzione di dimensione un pochino ridotta nel maiale si rispetto al cinghiale e quelli inferiori ecco guardate la differenza tre superiori inferiori guardate un po' questi tre eh e guardate questi innanzitutto sono tutti attaccati l'uno all'altro tanto da rappresentare vedete un elemento innanzitutto indirizzato in senso anteriore sono orizzontali indirizzati in senso anteriore questa è la tipica eh diciamo giustificazione anatomica di un animale che riesce a scavare con la bocca ed ecco chi voi chi di voi frequenta se è rossore se è pisano e va in giro vede ogni vedete ogni tanto un terreno completamente dissodato sembra che ci sia passato un aratro con qualcuno che ha sollevato il terreno ecco ci sono passati dei cinghiali che hanno eh dissodato il terreno per eh tirare fuori le radici di cui si nutrono eh le radici sono ricche di materiali zuccherino quindi sono nutrimento loro sentono la presenza della radice con l'olfatto a quel momento scavano come sapete come aprono la bocca e con i denti inferiori usano quindi questi denti inferiori come una paletta la inseriscono nel terreno e poi buttano la terra su un lato come quando voi usate una palettina per scavare la stessa cosa si tratta quindi di un atteggiamento comportamentale importante per cibarsi di radici cinghiale e maiale stessa cosa un pochino meno vedete un pochino ridotta nel maiale rispetto al cinghiale però diciamo si mantiene nel suino i denti premolari e molari eccoli qua guardate un po sono invece molto simili ai nostri ai nostri premolari e molari cioè denti un pochino più rotondeggianti come bordo non cuboidali eh poligonali come negli erdivori con cuspidi attenti molto appuntite non basse ma molto appuntite ricordate questo animale deve macerare la carne e per macerare la carne la massa muscolare di un animale purtroppo appena ucciso ha bisogno di incidere la carne per poterla masticare è un po quello che succede ai nostri premolari e molari prof mi scusi vai c'era una domanda vai eh Giulia Cataldi chiedeva eh a cosa serve il diastema nella masticazione? Allora il diastema nella masticazione non serve a niente è un retaggio di un allungamento del cranio in questi soggetti di cui non conosciamo la motivazione nell'allungamento molto probabilmente per dare adito a una eh diciamo buona masticazione dei denti incisivi e spostamento progressivo dagli incisivi ai premolari e molari caudalmente ma non c'è una motivazione logica è semplicemente derivante da un allungamento del cranio negli erbivori non seguito da una eh diciamo posizionamento corretto delle alveoli dentari non a caso più il cranio è corto più i denti non hanno il diastema quindi è un effetto dell'allungamento del cranio negli animali erbivori il quale allungamento probabilmente è legato al trasferimento delle orbite eh cavità orbitali in posizione laterale cioè si frammette il naso molto lungo seguito dall'allungamento della mandibola in maniera tale che quindi gli occhi si portano in posizione laterale cioè la giustificazione quindi di un atteggiamento di difesa nei confronti dei degli animali predatori quindi di seguito a questa necessità di meglio difendersi quindi la meglio difesa e l'allungamento del cranio purtroppo i denti non hanno seguito nel diciamo collocare nuovi albeoli nello spazio dove questi denti potevano essere alloggiati si pensa che sia questo il motivo invece c'è un'altra domanda la leggo allora Anastasia Termini chiede da cosa è derivata la diminuzione di lunghezza della faccia del maiale la diminuzione di lunghezza della faccia del maiale è è diciamo stata determinata dal fatto che cercando di selezionare soggetti che a parità di alimento diciamo rendevano di più dal punto di vista muscolare che cos'è la resa nella carne la resa è la massa muscolare a parità di alimento capisci bene che dal punto di vista economico se due animali mangiano la stessa quantità di cibo ma uno ingrassa di più rispetto a un altro io ho una resa alimentare nettamente superiore quando l'uomo ha capito che da questi animali ci poteva entrare un enorme beneficio ha cominciato a selezionare i soggetti che ingrassavano più facilmente di altri così dopo la macellazione avevano più carne da quelli un pochino più diciamo ma magri è un pochino più affilati durante questa trasformazione che ha che ha diciamo ha reso ha reso importante l'aumento di volume del tronco a sfavore della lunghezza degli arti cioè animali più corti rispetto al cinghiale che nonostante tutto è bello grosso ma ha arti più alti durante questo tipo di trasformazione il cranio si è accorciato si è accorciato e per avere in questo modo più spazio per i muscoli masticatori i muscoli masticatori si sono sviluppati in spessore laterale quindi più guance sviluppate più la faccia è corta in soggetti con faccia corta io posso mangiare di più i muscoli della masticazione che sono più impegnativi dal punto di vista dello sviluppo laterale e quindi a faccia più corta a corrisposto muscoli masticatori cioè le guance più sviluppati l'uomo ha portato avanti quei soggetti che spontaneamente nascevano con la faccia più corta perché gli faceva comodo avere anche quei muscoli masticatori per potersi cibare di essi cioè lo scopo è domesticare quei soggetti che a parità di alimento avevano una modificazione corporea più utile dal punto di vista economico all'uomo stesso sapendo che come vi ho detto fin dall'inizio spesso le trasformazioni anatomiche sono casuali se mi fa piacere avere questa trasformazione anatomica cerco di trasferirla alla progenie cercando di incrociare un maschio e una femmina che condividono con questa trasformazione altrimenti se non mi fa piacere questi animali non li porto in allevamento cioè non li faccio riprodurre è capito quindi si parte da un elemento casuale si porta avanti ecco che noi abbiamo un maiale con la faccia più corta perché fa più comodo averlo con la faccia più corta ecco ok posso andare avanti sul cane ok ragazzi dunque sì ok ok allora ci stiamo avvicinando come vedete agli animali e quelli che sono vicini a noi proprio nella nostra abitazione è quelli che condividiamo con cui condividiamo tanti momenti della nostra vita e che ci rendono spesso la nostra vita anche più piacevole cominciamo dal cane il cane che vi ho messo in questa immagine è di cui una razza che conoscete che si chiama pastore tedesco perché ve l'ho messo perché è quella razza che si ritiene più simile al progenitore selvatico come morfologia che del cane che è il lupo allora al pari del suino sulla terra il suino non esisteva prima dell'uomo l'abbiamo creato noi esisteva il cindiale ecco sulla terra non esisteva il cane il cane l'abbiamo creato noi dalla domesticazione del lupo il quale è stato il primo animale domestico quindi primo animale deve essere stato addomesticato dall'uomo ha visto in questo animale l'uomo una possibilità di utilizzo che non ha visto subito negli altri animali domestici in Europa in Asia si hanno tracce di cani quindi di soggetti che noi chiamiamo cani attualmente con le morfologie che noi chiamiamo cane fino da trentasei mila anni fa quindi trentasei mila anni fa c'erano già i domestici cani e convivevano con i lupi che sono il progenitore che cosa è successo nella domesticazione del cane ecco le domesticazioni si studiano anche in senso biologico analizzando le sequenze geniche del progenitore e le sequenze geniche del nato dalla progenie quindi dalla domesticata ecco sembra che i cani attuali derivino da esemplari di lupo addomesticati in Asia quindi il cane nasce in Asia come vedete spesso nasce in Asia il soggetto domestico vi siete già trovati con gli ovi caprini con questo processo per un fenomeno attenzione questa è una novità autodomesticazione cioè non è stato tanto l'uomo che ha riconosciuto nel lupo un soggetto da modificare geneticamente ora geneticamente lo diciamo noi trentasei mila anni fa geneticamente non lo diceva l'uomo ma aveva capito qualcosa di questo soggetto che somigliava a se stesso al suo modo di vivere e quindi è un fenomeno di reciproco avvicinamento chiamiamolo ma si tratta di una autodomesticazione cioè sono stati i lupi che hanno deciso di avvicinarsi all'uomo perché ne hanno tratto vantaggio da questo avvicinamento derivante da una enorme capacità di curiosità che ha il lupo come animale quindi si è incuriosito lui della nostra presenza si è avvicinato lui a noi e noi ci siamo approfittati di questo affiancamento all'inizio per un problema di utilizzo nella caccia cioè il lupo e l'uomo attenzione al pari sono andati a caccia insieme non come il cacciatore attuale che utilizza il cane per uno scopo del cacciatore eh gli porta alla preda gliela identifica e poi l'uomo uccide la preda la porta a casa no in questo caso è proprio andare a caccia insieme cioè il lupo ha capito che cacciando con questa tipologia di animale bipede eh che siamo noi ne potreva trarre vantaggio sulla insieme adesso per quanto riguarda l'utilizzo della preda che cosa intendo con questo intendo che evidentemente alcuni residui di origine alimentare dell'uomo di cui l'uomo non si è cibato pensate eh ha ucciso delle prede magari degli erbivori si è cibato delle masse muscolari ma avrà abbandonato la maggior parte dei visceri ma soprattutto abbandonato lo scheletro ecco gli è il lupo ha approfittato degli scarti alimentari dell'uomo e si è cibato lui stesso risparmiando la fatica di uccidere vedete l'intelligenza di questo animale che è il lupo che al pari dell'uomo è l'animale più sociale fra gli animali domestici cosa vuol dire essere animale sociale vuol dire riconoscere il branco noi siamo animali sociali perché in questo momento siamo insieme ci aiutiamo comunichiamo traiamo vantaggi dal vivere in comunità la comunità più piccola può essere la famiglia poi c'è la scuola poi c'è la società ecco il lupo è un animale sociale capisce che stando insieme a soggetti della stessa categoria ci si aiuta meglio nei momenti di difficoltà e quindi sociale come noi ha riconosciuto in noi un animale molto simile e ha approfittato dei nostri scarti alimentari e si è avvicinato a noi senza offendere la nostra integrità di possibili prede in questo modo l'uomo cos'ha capito intelligente quanto il lupo ha capito che se intorno ai suoi accampamenti i lupi si cibavano degli dei suoi scarti alimentari non si avvicinavano agli accampamenti dell'uomo animali predatori ben più potenti del lupo cioè che cosa ha fatto il lupo scusate l'uomo ha identificato il cane da guardia se ci pensate bene cioè intorno agli accampamenti insieme alla grande intuizione del fuoco che ha mantenuto lontano i grandi predatori ha però utilizzato questi soggetti che ora noi chiamiamo cani che servivano a difendere lo spazio in cui viveva l'uomo per questa socialità questa mutua convenienza che ha caratterizzato il rapporto del lupo lupo cane uomo cane uomo lupo autodomesticazione quindi è stato il lupo stesso che ha iniziato ecco a decidere questo tipo di rapporto di modi e abbiamo creato le varie l'uomo poi ha creato le varie razze di cani e ha creato cani di vastissime dimensioni questo ho messo il pastore tedesco perché ha la morcologia più simile a quella del lupo però voi pensate che esistono cani molto grandi di dimensioni molto alte col mantello molto più corto di quello del del cane cane pastore tedesco come esistono cani selezionati da poco che hanno delle dimensioni inferiore a quelle di un gatto se ci pensate bene quindi un'enorme variabilità nelle caratteristiche morfologico del cane tutte però a partire vedete questo un profilo di un cane x è questo scheletro tutte a partire però da delle caratteristiche anatomiche particolari ok allora il cranio del cane è questo il cranio del lupo è questo voi ha un occhio clinico diciamo anche abbastanza superficiale voi vi sembrano completamente uguali infatti sono uguali questo è un cane la a cui morfologia magari se fosse stato in vita sarebbe stata simile a quella di un lupo tipo un pastore tedesco ecco il suo cranio è uguale praticamente quindi è il cranio attenzione il lupo un animale carnivoro questo è il cranio di un animale carnivoro anche se l'uomo nell'avvicinarsi a questa specie nel nel progressivamente cibarlo con i propri avanzi lo ha indotto a diventare onnivoro quindi sappiate che chiunque di voi ha il cane in casa sa di avere un animale onnivoro come noi cioè il cane riesce a digerire anche i carboidrati e riesce a digerire la vegetazione cioè lo zucchero della della vegetazione perché nella sua domesticazione si è trasformato dal punto di vista alimentare ma non dal punto di vista morfologico quindi il suo aspetto è quello di un animale carnivoro le orbite guardate l'orbita del cane e l'orbita del lupo è la medesima perlomeno in questo tipologia di cane è un'orbita che si sta frontalizzando ancora di più rispetto al suino a quello che avevamo lasciato che il suino nasce onnivoro come il cinghiale lui nasce carnivoro e infatti se ci pensate nelle varie razze canine voi vedete animali che hanno occhi un pochino più lateralizzati tendenzialmente quelli che hanno il naso molto prolungato pronunciato tipo ecco ragionamento che ho fatto prima del cavallo insieme a razze col naso corto tipo un bulldog eccetera in cui l'occhio si frontalizza meglio quindi lo spostamento della posizione dell'arcata è diciamo sincrono con la tipologia della razza però tendenzialmente è un occhio che guarda davanti del resto deriva quindi da un animale carnivoro con la creazione delle razze qui ho portato guardate due reperti del museo che effettivamente non sono proprio uguali guardate questo che è molto più simile al lupo però questo anche questo è un cranio di cane e noto delle differenze soprattutto nella parte nella lunghezza e non è un cane piccolo è nel senso d'età è un cane piccolo di morfologia questo rispetto all'altro è la parte caudale che ora vi spiego quindi diciamo che con la creazione delle razze alcuni aspetti morfologici sono un pochino cambiati ora vi spiego però l'attitudine comportamentale vi ho detto è stata catalogata come quella di un animale attualmente onnivoro derivante da un carnivoro guardiamo le caratteristiche la prima caratteristica importante che si deve valutare nel cranio del cane uno dei primi risultati quindi della domesticazione quindi nella creazione delle razze canine guardate un po questo è un cane ancora non è lupo è un cane però molto simile al lupo vedete lo guardo dall'alto questo cranio va bene vedo la parte quindi che possiamo toccare della sua del suo naso della sua fronte della parte dorsale posteriore vedete questa cresta enorme che deriva dalla riunione di due creste a y vedete ecco in questa in questo cranio di cane voi non vedete niente tutto questo vedete una formazione rotondeggiante senza creste allora questa protuberanza si chiama nucale che è il termine che meglio potete conoscere la nuca è la parte posteriore del cranio in termine anatomico si chiama con l'osso che la caratterizza che si chiama osso occipitale quindi si chiama protuberanza occipitale questa protuberanza scompare quando io creo una razza di cani che chiamo come vi ho detto il bulldog a faccia corta e lo chiamo soggetto brachi brachius in greco vuol dire corto morfi in forma a faccia corta ad esempio un il massimo della faccia corta ancora maggiore rispetto a questo cosa vedete il bulldog no che è proprio schiacciato anteriormente ecco man mano che io creo una razza brachimorfa mi scompare questa cresta allora questa cresta attenzione è una cresta molto importante che nel lupo guardate eccola qua guardate come ampia nel lupo come ampia anche in questo soggetto canino come qui è scomparsa questa cresta è fondamentale per l'attitudine diciamo alimentare del lupo a questa cresta a tutte le creste che ci sono nello scheletto voi dovete immaginare che corrispondono aggancio di muscoli quindi a cresta esposta corrisponde grande massa muscolare che ci si ancora sopra potenti muscoli come masticatori cioè muscoli guardate scusate che vanno da qui fino alla mandibola e quindi agiscono sulla mandibola apri chiudi apri chiudi ok allora pensate che questa cresta è caratterizzata quindi dall'aggancio di un muscolo che è quel muscolo che permette al lupo una cosa molto importante allora il lupo vede la preda ok la rincorre la batte la uccide a quel punto la apre la bocca la chiude dentro la sua bocca e la trasferisce in uno spazio più tranquillo per potersene cibare ad esempio va nella cucciolata dei lupacchiotti e condivide con loro il pasto di quel giorno ok allora in questo spostamento la presenza di questi muscoli estremamente sviluppati permette all'animale di non stancarsi nel tenere la preda all'interno della bocca guardate che tenere la bocca chiusa e correre anche per centinaia di metri non facendo mai cascare la preda dalla bocca è un atteggiamento molto impegnativo per la stanchezza muscolare ecco la presenza di muscoli così potenti nel lupo manifesta questa sua possibilità perché magari nel mentre potrebbe arrivare un elemento di un altro branco che potrebbe tentare di rubargli la preda appena uccisa ecco in questa maniera invece riesce a difendere la propria preda nella bocca per cibarsene per sé o per la propria prole ecco chiaramente quindi cosa ne deduco che un cane di questa razza non ha questa possibilità cioè non ha più ha perso ma del resto vivendo con noi non ha necessità di uccidere perché è l'uomo che alimenta il cane quindi ha perso questo tipo di capacità e può sopravvivere tranquillamente perché ha cambiato tipo di alimentazione non è più un animale che deve uccidere per sopravvivere e guardiamo invece i denti come sempre di un animale a questo punto lo posso dire carnivoro perché ovvio appena premesso che la morfologia salvo col discorso della testa è quella del lupo non è cambiata quindi i denti del cane sono i denti del lupo quali sono i denti di un carnivoro a questo punto e va bene mi ripeto un po' rispetto a quello che ho detto nel maiale con delle caratteristiche più accentuate essendo non onnivoro ma carnivoro è invariata fra lupo e cane la sequenza dei denti e che sono incisivi canino premolari molari quindi anche nel lupo e nel cane come nel cinghiale e nel maiale è assente il diastema cioè la faccia mantiene sempre degli ottimi rapporti tra la faccia vera e propria splanchnocranio e il neurocranio cioè la porzione caudale anche perché il neurocranio limitatamente alla mole corporea attenzione tutto va visto in relazione alla mole corporea in animali che devono fare le strategie per uccidere è molto più grande cioè cosa intendo con questo scopo intendo che il cervello del cane è molto più grande in relazione alla mole corporea del cervello di un erbivoro perché a sviluppo del cervello corrisponde sviluppo dell'attività del sistema nervoso cioè sviluppo delle intuizioni e delle strategie che questo organo permette all'animale per poter effettuare la sua alimentazione che purtroppo è l'uccisione e io vi parlo sempre in termini di naturalità quindi non c'è assolutamente il diastema la faccia è estremamente più corta relativamente all'intero cranio ecco l'importante è il dente canino dente canino che chiunque di voi ha il cane lo può valutare aprendogli la bocca sia il superiore che l'inferiore è effettivamente un dente conoide che è leggermente ricurvo avete visto un po come la zanna del cinghiale è più corto chiaramente ricurvo che va avanti e ritorna un po indietro si va in occlusione con quello superiore inferiore ed è quello con cui l'animale uccide cioè infila nelle masse muscolari della sua preda questi denti e i denti penetrando possono lacerare dei vasi sanguigni quindi c'è la la perdita di sangue la perdita quindi in questa maniera di di attività della vita dell'animale quindi l'animale progressivamente preda perde le sue forze e viene a morire sotto i denti di questo soggetto ma un altro dente che non abbiamo ancora incontrato e questo è tipico del vero carnivoro e questo dente qua allora questo è il canino quindi questi sono i premolari piccolini guardate se avete il cane fate questa prova a casa vostra in questi giorni guardate invece l'ultimo dente della sua cavità però dovete guardare quello alto quello del palato non quello della mandibola vedete non c'è questa caratteristica nella mandibola lo vedete questo dente che caratteristica non è in linea con gli altri ma occupa parte del palato lo guardate come sviluppato va in senso vedete verso il palato a differenza di questi che sono tutti in linea ecco questo dente si chiama ferino è molto sviluppato verso il palato e perché esiste il dente ferino nel carnivoro è il dente che serve a rompere le ossa dello scheletro della propria preda tutti voi se avete il cane avete notato un atteggiamento caratteristico provate a dare un elemento non dico un osso ma anche un elemento rigido da mangiare al cane il cane non lo affronta un elemento rigido con gli incisivi lo affronta portandolo posteriormente a livello esterno della commessura delle labbra cioè dove dal labbro superiore si va al labbro inferiore dove si chiude la bocca ecco a quel livello internamente c'è il dente ferino quindi il cane così intelligente che sa di portare questo elemento rigido sotto questo dente che è estremamente potente che si chiude con i denti superiori e precisamente si chiude con questo enorme dente guardate inferiore e in un solo colpo di chiusura voi sentite un rumore fortissimo dall'esterno se gli date un osso in quel momento l'animale riesce a troncare l'osso quindi è la traccia che nel lupo ho la possibilità all'interno della cavità orale di uccidere masticare carne masticare organi cuore intestino il lupo mangia tutto ma masticare anche lo scheletro il lupo non ha studiato noi lo sappiamo perché mastica lo scheletro lui lo fa per imprinting genetico dentro lo scheletro non solo c'è il calcio che è un elemento fondamentale alla vita ma c'è anche il midollo osseo che è un nutrimento importante per la produzione di globuli rossi quindi ecco di una carcassa di un animale il lupo si ciba di tutti gli elementi che la compongono e il cane mantiene questo tipo di caratteristica anatomica tutti i denti come un po' avete visto quelli del cinghiale sono fatti di enormi cuspidi molto evidenti cioè devono incidere la carne sono le cuspidi un po' più arrotondate negli incisivi estremamente vedete allungate e appuntite nel canino e a tre punte guardate un po' non so se riconoscete due piccoline laterali e una centrale guardate una una e una centrale più alta propria forma quasi piramidale per quanto riguarda gli altri denti professoressa mi scusi avevo una domanda tornando un pochino indietro c'è un motivo particolare sì è su diciamo così sugli animali addomesticati c'è un motivo particolare per cui la maggior parte gli animali addomesticati sia di origine asiatica o no no non c'è un motivo non è stata studiata o meglio è stata studiata ma le risposte non sono state date particolarmente puntuali su questo fatto molto probabilmente perché in aree che poi sono aree tendenzialmente diciamo pianeggianti forse poi considera che il continente asiatico è di comunicazione con il resto del continente del mondo quindi noi riteniamo che il passaggio degli uomini abbia determinato passaggio fisico e diciamo sul terreno cosa che è stato difficile con l'africa perché per molto tempo era staccata e non è stato così facile negli altri continenti per pensare al nuovo continente al nuovissimo che erano proprio divisi dal mare si ritiene che le conoscenze sugli animali siano più state più puntuali per quanto riguarda le distese delle delle aree pianeggianti della dell'asia dove alcuni animali che avevano l'attitudine montuosa avevano il tibet notato che ho messo varie volte la voce tibet come la capra quindi l'antenato della capra quindi animali che potevano diciamo camminare sopra le rocce ma fondamentalmente si trappa delle si tratta delle delle pianure dell'asia pianure dell'asia che dal punto di vista climatico non subivano dell'asia tendenzialmente più verso il la parte equatoriale non subivano alte variazioni di temperatura come poteva essere nord europa ad esempio nord america dove quindi gli animali avevano allo stato libero la possibilità di sopravvivere meglio alle variazioni ambientali si ritiene che possa essere questo la motivazione quindi un enorme continente tutto calpestabile muovendosi sul terreno senza grossi intoppi salvo l'elemento tibet come vi ho detto è un elemento con variazioni di temperature estremamente più rare rispetto agli altri continenti questo può aver migliorato la vita ha garantito che la vita fosse più semplice si ritiene che possa essere questo l'elemento e poi c'è un'altra domanda invece di vittoria ursi la presenza o no di creste determina la dimensione della razza canina la presenza di creste determina la tipologia della faccia delle razze canine allora le razze canine si dividono in tre categorie si chiamano animali a faccia lunga tipo il lupo si chiamano dolico morsi e quindi ad esempio il levriero fai conto estremamente allungato ecco il levriero ha un enorme cresta più la faccia è lunga più la cresta è presente più la faccia è corta quindi il brachimorfo è l'estremo opposto del dolico morfo ad esempio il bulldog il poi ci sono ad esempio il labrador è un mesomorfo cosa voglio dire è in mezzo nella lunghezza fra un animale a faccia piatta che francamente se ci pensi bene quasi non ha naso tanto che nell'estrema selezione della faccia piatta noi assistiamo ad animali che hanno difficoltà respiratoria pensa cosa ti dico cioè animali che hanno talmente il naso corto che non hanno una capacità respiratoria compatibile con la vita tanto che ad esempio quando dormono russano costantemente tipici di un animale che hanno una riduzione del palato cioè una una diciamo eccessiva variazione che comporta delle alterazioni anche di tipo funzionale il il labrador ha una lunghezza della cresta facciale intermedia all'assenza nei brachimorfi quindi se toccate la testa di un bulldog dietro è rotonda e rispetto al dolico morfo come ad esempio il pastore tedesco vi ho detto i setter di varie le varie tipologie di setter che sono animali da caccia che hanno invece voi quando anche col mantello quindi animali viventi se toccate la nuca sentito una punta a quel livello che è la traccia di questa di questa enorme cresta ecco al variare della lunghezza cioè più l'animale ecco aggiungo questo termine più l'animale è olfattivo cosa intendo se ho tanta cavità nasale ho tanto spazio per mettere il senso dell'olfatto che tutti voi sapete contenuto nel naso quindi generalmente gli animali da caccia che stanano la preda sono animali a faccia lunga perché hanno tanta capacità olfattiva più un animale ad esempio è semplicemente da compagnia ha poca necessità di utilizzare l'olfatto per un'attitudine comportamentale o di lavoro come può essere la caccia più ha un respiro anzi quasi ridotto al contrario a una negatività perché è estremamente corto quindi è una deviazione opposta tutto sta nella creazione della razza quindi la cresta segue la lunghezza della faccia più la faccia è lunga più la cresta è pronunciata più la e quindi più è lupo più la faccia è corta più la la cresta scompare proprio è un effetto della variazione della creazione della razza ok posso andare avanti su quest'altro soggetto ed ecco un altro soggetto il gatto allora anche lui è un animale che teniamo lo riteniamo domestico perché lo teniamo all'interno della nostra casa ecco da oggi scoprirete invece che questo animale non è domestico premetto questa affermazione un po violenta detta così ok allora un po intanto in questa immagine vedete due tipo vedete sembrano tre gatti ok i primi due abbastanza simili il terzo è il mio gatto nero si chiama maru è il mio gatto domestico e questo si chiama felice silvestris e questo si chiama felice libica io direi che un primo approccio li vedo abbastanza simili ecco il gatto domestico cioè il mio gatto come tutti i vostri gatti si chiama felice silvestris catus e deriva dal gatto selvatico il quale gatto selvatico si chiama solo felice silvestris eccolo che avete nuovamente vedete ragazzi eurasia ma anche africa e italia peninsulare quindi anche tuttora vive in calabria soprattutto e in basilicata più facile nell'italia peninsulare verti ventrale mediterranea il felice silvestris oppure ecco importante è questo che ha un elemento topografico fondamentale l'africa settentrionale non a caso si chiama libica quindi il nord dell'africa e le isole le quali isole sono più in rapporto con la libia memorizzate bene questo questo discorso topografico ecco apparentemente sembra al simile io questo vedo con le guanciotte un po più larghe simile a quelle di amaro vedete questo un pochino più magro il mantello è simile è un mantello tigrato sul belge così invece amaro e nero poi sono gatti bianchi gatti a pelo lungo gatti a pelo corto sapete mediterranea ecco questa trasformazione innanzitutto è recentissima nella storia del gatto cioè il gatto è un animale che si è trasformato il gatto domestico si è trasformato vedete intanto non uso più domesticato ma dico trasformato dall'animale selvatico recentemente recentemente si tratta meno di cinque mila anni che meno di cinque mila anni è l'altro ieri nella storia della biologia e questi animali esistono ancora esiste il felis silvestris esiste il felis silidica esistono i nostri domestici studi recenti su questa evoluzione quindi al solito il dna che mi permette di capire che differenza c'è fra questo gatto questo gatto e il nostro studi recenti hanno ammesso che questo processo di domesticazione non deve essere come finora ho definito secondi criteri di cui vi ho spiegato bene nel cane questo concetto della domesticazione legata alla vicinanza alla categoria dell'animale sociale se ci pensate anche i cavalli sono animali sociali le pecore pensate al greggio la mandria dei bovini cioè animali che hanno piacere di vivere in gruppo un po come siamo noi cioè animali sociali ecco questo processo di domesticazione nel cane viene chiamato ammanzimento o in inglese taming che cos'è l'ammanzimento l'ammanzimento è un processo di trasformazione del soggetto selvatico che diventa domestico nel senso che vive nelle nostre case e questo la domesticazione è più legata alla parola latina domus che vuol dire casa che non ha la parola domesticazione cioè resa di passaggio da selvatico a domestico perché vive nelle nostre case senza che l'uomo ne abbia apportato delle modifiche attenzione morfologiche e comportamentali salvo potrei aggiungere di lunghezza e colore del mantello perché tutti voi sapete che tendenzialmente i gatti sono di vario tipo come colore e lunghezza del mantello e questa trasformazione che è l'ammanzimento è del gatto in funzione dell'uomo per necessità di commensalismo quindi cos'è il commensalismo è il mangiare insieme quindi il gatto ha compreso che un po come il lupo in questo senso e stare vicino all'uomo è un vantaggio per la propria specie perché l'uomo diciamo da dei scarti della propria alimentazione a questo soggetto ma questo non ha comportato la possibilità che l'uomo abbia trasformato questo soggetto dal punto di vista comportamentale in un soggetto addomesticato esempio al cane posso insegnare qualcosa cioè posso dialogare col cane come posso insegnare al cavallo come possa insegnare al bovino un pochino di più insegnare al cavallo e al cane non al bovino la pecora la capra che sono più docili con nei confronti dell'uomo ma hanno meno capacità di eseguire determinate funzioni il cavallo e il cane lo sapete benissimo entrambi animali ad esempio sono utilizzati come terapie di disturbi comportamentali umani terapie vuol dire che mi aiutano a risolvere dei problemi di salute perché entrano in empatia totale nei nostri riguardi e ci danno una mano ci aiutano pensate all'ipovedente ecco io non affiderei un tipo vedente a un gatto detto in termini chiari il gatto è un animale che è ancora dentro di sé dentro il suo dna un animale selvatico cioè un animale che ha la caratteristica di adattarsi ad esempio a uccidere la preda per potersene alimentare è un animale innanzitutto asociale che cosa voglio dire che se io ho un gruppo di gatti io non ho un branco ma ho un gruppo di ai gatti che decide di vivere nello stesso ambiente perché li può far comodo vivere nel stesso ambiente però ognuno ha il suo spazio privato e se uno pensa di utilizzare lo spazio dell'altro ci sono questi questi momenti di attrito fra di loro dove vince il più potente cioè classico animale che è rimasto nella condizione di selvaticità questa è la sua condizione morfologica ecco la sua condizione morfologica un po come avete visto è successo nella morfologia tra lupo e cane è una morfologia di identità assoluta guardate questo è un reperto che è un museo di gatto selvatico cioè so per certo che questo è un cranio proveniente da un gatto selvatico e questo invece è un cranio di un gatto domestico io noto una uguaglianza nella sua diciamo caratteristica morfologica la cavità orbitaria ecco la cavità orbitaria fra tutti gli animali che abbiamo descritto fino adesso è la più grande relazione alle dimensioni del cranio che cosa voglio dire quindi ancora di più di quella del lupo e del cane voglio dire che questo è un animale estremamente predatore guardate questa cavità in relazione alla sua faccia sapete tutti quanto è corta la faccia del del gatto non esistono se non alcune razze in cui si incurva un pochino quest'angolo in alcune razze persiane si incurva notevolmente però tendenzialmente è curbi linea con vessa molto corte guardate ragazzi queste limite guardate quanto è grande neurocranio secondo quel concetto che vi ho detto prima a neurocranio grande corrisponde grande encefalo a grande encefalo corrisponde un encefalo capace ed utile di avere una grande funzionalità strategica grandi connessioni nervose questo è un animale che progetta le uccisioni e le portate a termine pensate in condizione di selvaticità cosa sono i grandi felini il leone la tigre la la pantera il leopardo il gheppardo cioè tutti felini al pari del gatto quindi si chiama si chiama ordine dei felini però il gatto si chiama felis il leone si chiama pantera quindi qui lo dico e qui lo nego non credete in qualcuno che vi dice che il gatto deriva dal leone o deriva dal leopardo deriva no il gatto è gatto e loro sono un altro genere convivono in natura e nascono insieme ma con generi diversi quindi il gatto è sempre stato gatto quindi deriva semplicemente il domestico dal gatto selvatico quindi grande cavità orbitaria occhio grande visione eccezionale posizione molto frontale questo è il profilo di un gatto con la sua tendenza ad avere arti estremamente duttili nella diciamo nella diambulazione guardate invece il cranio la caratteristica importante di questo cranio questo è il suo palato e questa è la sua mandibola innanzitutto vedete che le arcate sono molto corte estremamente divergenti a v vedete come sono larghe dietro e riunenti davanti e la caratteristica importante guardate ho messo questi due rettangolini guardate gli incisivi come sono gli incisivi sono in linea e questo condivide il gatto lo condivide con il leone e leopardo cioè i genere dei ferini superiori incisivi in linea estremamente taglienti grande sviluppo del canino guardate come grande cioè animale che può uccidere e questi sono i suoi premolari e molari tutti raccolti in uno spazio estremamente corto quindi faccia molto corta molto rotondeggiante rispetto anche a quelle del cane e poi abbiamo l'ultimo animale che l'uomo ha deciso di tenere nella propria casa ma lo può utilizzare anche come animale dal reddito come detto a duplice attitudine si dice che è il coniglio allora questo è il coniglio domestico classico coniglio a mantello bianco generalmente anche animale albino questo non è albino perché ha l'occhio pigmentato ma l'albino ha un occhio rosso cioè un animale che ha l'occhio lo fondo dell'occhio in cui non ha il colore dell'iride quindi è rosso è albino si chiama questi animali che voi vedete invece convivono con questo animale sono gli animali selvatici che si ritiene siano i progenitori del coniglio domestico cioè il coniglio selvatico e la lepre condividono vedete il mantello del colore dell'animale selvatico cioè il colore marrone è un mantello più ispido di quello del coniglio domestico e vedete questo al pari del concetto del maiale che era diventato rosa questo è un mantello bianco mantello bianco vuol dire animale che non ha necessità di mimetizzarsi nell'ambiente tanto noi lo teniamo nelle nostre strutture ricoverato quindi il coniglio si chiama oryctolagus cuniculus e deriva dallo stesso soggetto selvatico e sembra anche dalla lepre mentre la lepre si chiama lepus europeus ha questo col coniglio selvatico la capacità quindi di avere il mantello pigmentato e che si trasforma diciamo si scusate si inserisce completamente nell'ambiente quando è stato domesticato a domestico cioè quando questi animali sono stati resi più docili di quello che sono attenzione già la lepre è un animale molto docile un animale che si fa catturare con una certa facilità e col coniglio domestico ancora di più quando già nel paleolitico siamo intorno a 2000 2 milioni di anni fa poi i romani hanno capito la necessità di tenere vicino a sé il coniglio come animale da alimentazione e solo nel 1700 comincia l'idea di tenere con il in casa come animale da compagnia perché sono estremamente docili anche conigli hanno una caratteristica importante allora i conigli si chiamano roditori anche se l'ordine si chiama lagomorfi appartiene al grande alla grande famiglia dei roditori che condivide quindi con il coniglio la dentizione del topo del ratto del della faina della cavia tutti animali che si chiamano roditori perché erodono cosa vuol dire erodere vuol dire mangiare anche il legno cioè trinciare con i propri denti un elemento estremamente duro come i legnetti tanto che questi animali se dovete tenere in casa li dovete alimentare con dei pellet i pellet sono dei cilindri rigidi che loro erodono da cui traggono una sorta di farina da cui si si nutrono ecco per fare questo triturare matilario vegetale duro più della paglia perché vedete il legno loro utilizzano dei particolari denti guardate questa è l'apertura buccale è tornato il diastema caratteristica dell'animale erbivoro che sono i denti premolari e molari e questi sono i denti incisivi guardate come sono ingrandito questa immagine ed è la parte superiore eccoli qua sono uno due tre e quattro è la prima volta che assistiamo a quattro denti due per lato che non sono in linea ma sono a rafforzare quelli dietro a rafforzare quelli davanti vuol dire che io ho una un unico spazio molto ristretto che insieme a due inferiori guardate come sono taglienti e organizzati in senso anteriore possono incidere il legno piano 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 apertura e chiusura della bocca triturazione del vegetale radici molto anche molto rigide e vi ho detto anche legnetti da potersi diciamo trarre come nutrimento perché sono fatti di materiale di cellulosa molto rigida ma è sempre cellulosa un'altra caratteristica importante che questi denti per tutta la vita si accrescono questa è una cosa che avviene solo nel coniglio negli altri animali quando un dente è pronto diciamo a entrare nella nella funzionalità sia dentizione di latte se abbiamo la dentizione di latte lo sapete come in umana e la dentizione definitiva quando il dente è diventato della dentizione definitiva nell'animale che è cresciuto rimane di quella dimensione e si consuma diciamo con una certa lentezza invece in questi animali per tutta la vita dalla nascita fino al loro invecchiamento si accresce quindi si accresce perché perché costantemente l'animale lo usura utilizzando appunto questa questa sorta di meccanismo di triturazione che la natura gli dà sempre con una superficie perfetta quindi il dente cresce mano a mano che viene usurato questo è importante da sapere come differenza per gli altri animali ma poi la cosa importante è questa guardate questo è l'occhio del coniglio se vi ricordate il primo occhio che vi ho fatto vedere il cavallo ecco questo è ancora più laterale rispetto al cavallo quindi un occhio e un altro sono a 180 gradi l'uno all'altro quindi a maggior ragione un coniglio che è un erbivoro ma di piccolissime dimensioni rispetto al cavallo ha la possibilità di scappare al proprio predatore perché si guarda le spalle per mettermi questo termine mentre mangia guarda che cosa succede lateralmente adesso per poter scappare al momento opportuno ecco questa è la motivazione dell'occhio estremamente lateralizzato di che cosa vi ho parlato praticamente fondamentalmente che nell'evoluzione di queste specie mammifere nella loro domesticazione io ho assistito a una modificazione della faccia e e fondamentalmente una modificazione dello sguardo che sono state le due posizioni che hanno giustificato le varie attitudini comportamentali più importanti cioè la faccia progressivamente si è ridotta ma man mano che sono passata dall'erbivoro all'onnivoro e al carnivoro soprattutto il gatto vedete qui gli ho messo la nostra famiglia siamo tutte e tre primati ok questo è il babbuino questo è lo scimpanzee questi siamo noi vedete che quando si arriva a noi praticamente il naso non esiste più guardate ancora come lungo nel babbuino guardate come lentamente si si verticalizza va verso il basso nello scimpanzee guardate nel nostro caso ma guardate l'occhio in visione laterale voi non vedete l'occhio cioè lo sguardo mano a mano nell'evoluzione si è reso sempre di più frontale occhio frontale animale predatore carnivoro rispetto a occhio laterale animale preda erbivoro questa è stata l'evoluzione che abbiamo visto tutto ciò si è concluso in questo animale che siamo noi dove voi avete fondamentalmente notato una cosa importante guardate un po' fra faccia e neurocranio posso dire che il neurocranio è nettamente superiore alla faccia perché qui dentro c'è l'encefalo e quindi homo sapiens animale dotato di un enorme massa cerebrale quindi la capacità di utilizzare questo organo come più lo vuole utilizzare la parte ultima del nostro laboratorio è l'analisi della parte terminale dell'arto cioè loro non sono diversi solo nella testa ma sono diversi anche nell'approccio al terreno e qui ho le varie caratteristiche degli animali che ho analizzato guardate cavallo bovino e ovino e caprino il maiale il cane il gatto il coniglio vedete che ci sono le unghie in queste posizioni però con arti di dimensione francamente diversa questa è una visione anatomica che è un po' complessa dal punto di vista perché è un testo proprio universitario però ecco gli animali hanno una mano e un piede questa è la mano cioè l'arto anteriore completamente diversa si va dal cavallo che ha un dito solo a invece al cane che questo e c'ha cinque dita quindi più vicino a noi c'è il maiale che ce n'ha quattro e la pecora del casbo e bovino che ce n'hanno due quindi assisto a una modificazione del numero delle dita in appoggio al terreno queste piccole ossa colorate invece corrispondono o al nostro polso che si chiama carpo o la corrispondente porzione nel piede che si chiama tarso e queste non sono variabili rispetto a noi quello che varia il numero delle dita e ve lo riportate velocemente guardate questo è il dito del cavallo un reperto del museo fatto da tre falangi quella di appoggio quella intermedia e quella più vicina al resto della mano eccola qua la falange si dice di stallo in appoggio intermedia o prossimale o più vicina e questo si chiama metacarpo che è la parte della nostra mano è da dove emergono le dita ecco il cavallo è un animale che ha un dito solo ma voi lo sapete che non lo aveva prima un dito solo aveva cinque dita nella sua evoluzione è diventato un animale portatore un dito solo e l'unghia dove va va a ricoprire questa falange qua ecco la lunghe del cavallo e come le nostre unghie estremamente pigmentate vedete l'uomo cos'ha inventato a ricoprire l'unghia del cavallo ha messo il ferro perché è un'unghia che si usura come le nostre noi quando si allungano tagliamo le unghie il cavallo lo stesso ha un'usura mette però una scarpina alla mano e al piede che chiama ferro del cavallo che serve quindi a farlo camminare con più facilità sui terreni guardate invece il bovino guardate questo è la mano o il piede a questo punto queste immagini va bene tutte e due del bovino ma anche della pecore della capra cioè dei ruminanti quelli tre animali che nascono erbivori e saranno sempre vivori in seguito alla loro domesticazione questo è il reperto del museo vedete le prime due falangi le falangi intermedie la prima falange è questa e questo è il resto dell'osso invece che corrisponde a questo che voi vedete che ci sono due tipi di verde fusi insieme talmente nel reperto lo vedete guardate che vedete due buchi fusi insieme sullo stesso piano cioè la parte che unisce le falange è un osso unico in questi animali quindi due dita due dita sempre quindi quale dita è ecco terzo e quarto della nostra mano quindi questi animali non hanno il primo e il secondo non hanno il quinto che è il mignolo ma hanno solo il medio e l'anulare così ci comprendiamo ciascuno con tre falangi e quindi hanno due unghie ritorna e guardate le due unghie del bovino o della pecora della capra il maiale invece il maiale eccola qua la mano questa è la mano del maiale quante dita vedete ecco io ne vedo quattro una due tre e quattro però come sommesse guardate lo schema sono diverse perché innanzitutto quale dito manca il pollice o l'alluce quindi il primo dito nostro non ce l'hanno quindi partono secondo terzo quarto e quinto dito di cui però attenzione ecco ed eccolo qua la manina del maiale guardate queste due sono queste due poi sotto vedete questa piccolina e ce n'è un'altra da quell'altra parte ecco il terzo e il quarto dito sono più grandi appoggiano sul terreno le altre due rivestite attenzione il terzo e quarto dito da unghioni le piccole dita queste qui unghielli sono piccole dita che sono più alte allora se il terreno è rigido il maiale quindi anche il cinghiale appoggia solo su queste due dita se il terreno è morbido anche le altre due dita piccoline affondano nel terreno e danno maggiore stabilità nel terreno morbido quindi c'è questa differenza nella lunghezza e nella funzionalità e questa invece è la mano del cane del gatto e l'ho riportata guardate questa è la mano di un cane e questa è la mano di un gatto c'è una certa equivalenza nel numero guardate qui ecco loro invece hanno effettivamente il pollice o l'alluce va bene molto corto però guardate questo è lo stampo dell'unghia e quindi hanno il primo dito il secondo dito il terzo il quarto e quinto dito cioè sono animali pentadattili con una certa differenza che del resto riconoscete anche nelle nostre mani se ci pensate bene vedete il secondo e il quinto sono un pochino più corti del terzo e del quarto però l'animale appoggia su quattro dita perché il primo è talmente corto che sta in alto poi però se avete il cane il gatto lo potete andare a rintracciare è piccolino è in alto perché è fatto da ossicina più brevi ognuna di queste unghie queste sono le unghie del cane queste sono le unghie del gatto e vedete subito cosa voglio dire quando questo animale è un selvatico queste sono unghie che aggrediscono la preda queste sono unghie ormai semplicemente d'appoggio si chiamano artigli va bene e facciamo il coniglio l'ultimo animale ecco il coniglio invece ha una differenza sostanziale uno nel numero la mano del coniglio questa questo invece il piede la mano e il piede hanno un numero di dita diversi allora la mano ha cinque dita quindi ha il pollice il piede ha quattro dita cioè non ha l'alluce va bene e poi un'altra cosa molto importante questa è la postura del coniglio la postura è particolare guardate com'è flesso su se stesso richiuso su se stesso tanto che l'appoggio guardate della mano e del piede è come il nostro è plantigrado cosa intendo con questo termine soprattutto per il piede la pianta del piede è questa il tallone che è questo ossicino guardate com'è è come il nostro è posteriore perché noi siamo animali plantigradi appoggiamo la totalità del piede per terra orizzontale mentre la mano la usiamo come prensile ed è ed è un altro superiore ecco l'arto anteriore del coniglio è plantigrado come il posteriore quindi ha una mano e un piede schiacciati sul terreno cinque dita quattro dita ok e le unghie si chiamano esclusivamente unghie guardate come sono molto acuminate e come lunghe rispetto ad esempio a quelle del gatto estremamente più lunghe e meno meno ad artiglio meno cioè ricurve ok vi ho stancato forse non lo so vi ho riportato a maru vedete la mia no assolutamente ma io vi aspetto il museo ve l'ho detto cioè io spero che questo processo termini prima possibile poi quando avete voglia ci mi contattate e venite in museo vedere i nostri animali che a cui io voglio un bene dell'anima non so se l'avete grazie alessandra vedo che forse in chat c'erano due domande ecco magari siamo un po con i tempi corti però no va bene va bene c'è problemi benissimo benissimo allora devo visualizzare la posta allora martina martini chiede se ci sono stati cambiamenti morfologici nella specie del gatto allora come si può come si può essere sviluppata una razza come lo sphinx credo si pronunci il gatto egiziano era forse già presente in natura è brava proprio quella è la seconda che hai detto allora i gatti selvatici variano nella nella latitudine in questa maniera i gatti dei poli soprattutto del polo nord sono gatti a mantello lungo tendenzialmente argente o con molto bianco capisci cosa voglio dire cioè animali che vivono nella nella neve ad esempio quindi il metodo per mimetizzarsi nella neve come anche come predatore è quello di avere molto bianco ok mentre i gatti della fascia mediterranea equatoriale ad esempio del sud dell'egitto da dove nasce lo sphinx sono gatti che hanno un mantello corto di colore marroncino che è il colore del deserto se ci pensi bene no il colore del terreno che non ha nemmeno vegetazione se non sarebbe marrone scuro allora che cos'è lo sphinx ecco lo sphinx è una degenerazione permettimi di dirlo a questo livello ma sto parlando ormai a personale qualificato culturalmente elevato perché mi avete seguito in questo tipo di escursus è una degenerazione genetica derivante dal fatto che sono nati dei gatti con una alterazione della lunghezza del mantello e si chiamano gatti nudi cos'è un gatto nudo quindi è un gatto che del gatto ha pochissimo nel senso che la sua caratteristica è proprio di avere un bellissimo mantello hanno questo questo dal nostro punto di vista di umani io immagino cioè che possa rendere conto quanto sono belle le variazioni cromatiche degli incroci fra i vari gatti è chiaro che se sono a livello equatoriale e l'incrocio prevederà delle nuanze diverse sul marroncino chiaro che cosa ha fatto l'uomo nel tentativo di creare delle novità ecco questo problema ha creato un soggetto che è debole dal punto di vista genetico perché anima ad esempio è un animale che ha necessità di essere coperto d'inverno perché non ha mantello hai capito quindi lo sphinx non è un animale naturale perché la natura non avrebbe mai creato un gatto nudo tutti gli animali nudi non possono mai essere naturali hai capito è un animale che l'uomo ha creato per per creare una novità sono tendenzialmente acute con un basso livello di melanina tanto che molti sono grigiastri quindi siccome la melanina è nera e quindi un basso tenore di melanina da un colore grigio e sono animali creati dall'uomo in natura quindi lo sphinx non esiste esiste il gatto più a pelo più un marroncino chiaro e più corto del felice libica che è quello che conoscevano gli egiziani i quali egiziani da da persone estremamente intelligenti e intuitivi avevano capito che era bene tenersi gatti dalla propria parte ecco il commensalismo dove nasce fondamentalmente nasce proprio in egitto perché se te in un granaio che è il nutrimento degli egiziani derivante dalla dal terreno attorno al nilo quindi si mangiano cereali fondamentalmente i poveri mangiano cereali non mangiano carne se te in un granaio mi ci metti un topo o una serie di topi il granaio me lo distruggono ma se io in un granaio ci metto un gatto il gatto si ciba dei topi e mi fa un favore a me ecco cos'è il commensalismo cioè il gatto pur mantenendo la sua libertà e quindi ecco nasce fondamentalmente il nostro gatto ecco dalla soprattutto dal dal libica è più che dal silvestris nasce come un elemento che aiuta discendevolmente per commensalismo la nostra vita poi noi abbiamo preso e l'abbiamo eccessivamente trasformato per novità per avere un gatto nudo che francamente mi sembra un po' un aberrazione ecco diciamo della natura la natura non avrebbe mai creato quindi non esiste in natura un gatto nudo salvo che sia un gatto che abbia un'alterazione genetica molto importante ecco questo sì ok e c'era anche un'altra di matilde piccinocchi che chiede l'uomo come è riuscito a creare razze canine molto diverse dal lupo come il carlino il bulldogo francese appunto in quel caso li ha utilizzato sempre l'osservazione di soggetti che spontaneamente presentavano delle alterazioni del corredo genetico tali da codificare per una riduzione degli dei segmenti corporei esso fondamentalmente scheletrici simili a quello che succede in umana per le forme di nanismo mi capisci cosa vuol dire il nanismo è una alterazione del corredo genetico che porta ad una precoce ossificazione delle ossa cioè una persona invece che avere delle ossa lunghe geneticamente per la sua tipologia familiare per un'alterazione del dna le ossa si ossificano molto precocemente dal modello cartilaginio che è il modello con cui noi viviamo nell'addome della nostra mamma all'interno dell'utero ok se questa ossificazione avviene precocemente io non ho accrescimento quindi ho un nanismo ecco i cani brachimorfi sono dei cani che soffrono di nanismo quindi l'uomo ha visto che nascevano dei soggetti di piccole dimensioni con non solo questo con un incurvamento anche delle ossa perché se ci pensate bene questi soggetti come il carlino non hanno delle ossa rettilinee ma hanno delle ossa leggermente incurvate se li vedete camminare sono un pochino diciamo hanno un atteggiamento un po baracollante cioè si muovono col culetto un po un po là perché hanno delle ossa non estremamente pensate al pastore tedesco estremamente allungate rettilinee ecco si tratta di creare a piacimento dell'uomo delle razze sulla base delle osservazioni di alterazioni spontanee che si possono che si possono verificare se io incrocio due soggetti maschio e femmina che presentano tutte e due la stessa caratteristica morfologica e che io ora dico che è un nanismo ottengo soggetti nani hai capito e lo stesso lo stesso motivo il bassotto il bassotto ha il tronco normale e gli arti corti è un caso di nanismo anche quello identificabile solo sugli arti hai capito quindi è l'osservazione umana di alterazioni spontanee del dna bene e allora io direi se non ci sono altre domande alessandra senti a proposito dell'attività pratica ci puoi suggerire una traccia sì siccome vedo che appunto capita è capitato di di servirie degli interventi soprattutto su gli animali giustamente che sono più vicino a noi come il cane e il gatto che ne dite se approfondiste un pochino ecco di più anche utilizzando bibliografia online o come vi pare questa differenza tra cane e gatto che avete capito sinceramente che la biologia dice che non sono lo stesso tipo di animale ecco quindi approfondire un pochino la differenza su quali aspetti si evidenzia la differenza nella domesticazione vera del cane nell'ammanzimento del gatto ecco quindi approfondire il termine domesticazione cane ammanzimento gatto che che portano a queste due specie che poi in realtà teniamo entrambe nella nostra casa ecco alla fine poi gestiamo nella stessa maniera ecco non so se vi può piacere questo argomento allora niente dunque io intanto ringrazio nuovamente tutti quanti ricordo appunto che per chi era in ascolto anche ieri la traccia per quanto riguarda l'approfondimento del professor peruzzi per il museo dell'orto e museo botanico di pisa è ipotesi per questo per quanto riguarda appunto il il primo marzo ipotesi per una museo realizzazione del patrimonio dell'istituto scolastico poi appunto parlerò con le insegnanti per cercare di spiegare più nel dettaglio la la traccia mentre per quanto riguarda il 2 marzo la traccia è le relazioni fra le attività dell'uomo e la biodiversità compatibilità o incompatibilità eh ok tanto poi non vi preoccupate vi faremo tutto quanto avere tramite le insegnanti e poi ehm le insegnanti rimanderanno a noi eh tutte le vostre tutti i vostri insomma eh approfondimenti li correggeremo noi e poi insomma eh vi faremo sapere bene a questo punto eh direi che ci siamo ci vediamo domani eh con la dottoressa Alice Tavoni l'approfondimento sarà il museo della grafica tra tecniche di incisione capolavori dalle collezioni e iniziative pubbliche l'appuntamento è sempre alle ore quindici circa novanta minuti poi ci saranno le domande e e e quindi insomma ecco ci sarà un altro intervento eh eh con noi bene grazie a tutti quanti grazie grazie Alessandra grazie Damiano grazie Sara grazie anche a Tommaso che si è dovuto scollegare e grazie a tutti e soprattutto grazie a voi ascoltatori grazie grazie tante grazie a voi ascoltatori grazie a tutti